Rappresenta ovviamente la Green Economy un'opportunità, ma come coglierla realmente al di là dello slogan? Sì, sicuramente con delle politiche stabili e certe nel tempo, questo diciamo che non sempre è avvenuto e forse non è avvenuto con l'ottica di sviluppare le capacità industriali che sono sul territorio italiano e questo è importante perché quando si danno degli incentivi bisogna anche pensare alla realtà in cui si vive. La stabilità è importantissima perché se io decido di investire dei soldi ho bisogno di avere un orizzonte temporale che sia di un certo tipo, perché non solo devo ritornare dell'investimento ma poi ci devo anche cominciare a guadagnare e senza una politica stabile faccio fatica.